diventa molto meno fruttuosa cerchio ifior attraverso tuglia e gian do utudes quinto volume domanda scusami scifo è sbagliato pensare che l'insegnamento filosofico dà delle spiegazioni che però non è che risolvono la vita ma sul perché accadono le cose e basta scifo certamente però vedi c'è una piccola cosa da pensare se non conosci l'insegnamento filosofico vivi tranquillamente se non conosci l'insegnamento etico morale la tua vita diventa inconsapevole diventa molto meno fruttuosa molto meno utile per le tue reazioni e i tuoi comportamenti